Eravamo rimasti ai parenti serpenti. Che non mi regalate perché sennò potrei avere qualche problema con la giustizia. No, no, dipendessi da meglio lo regalerei, però forse sarebbe meglio. Non faccio offrire più nemmeno il caffè. No, fa bene. Allora, era suggestiva l'ipotesi portata avanti da Antonio D'Amore dei parenti serpenti? Un'altra cosa, colgo così a proposito dei parenti. E' comparso e ancora insiste la sinistra dicendo che io nomino i miei parenti in posti, quindi in Abruzzengineering. Voglio ricordare a tutti che Ilaria Valentini è stata nominata dalla sinistra. Però a me mi attacca la sinistra come se l'avessi nominata io. Quindi questo lo devo dire perché... Ricordiamo che la dottoressa Ilaria Valentini è la cugina del governatore. Perché poi ci sono dei giornali come il Centro che correttamente di fronte alla smentita la riportano, cioè la smentita, cioè la precisazione. E altri giornali invece che nonostante che si faccia la precisazione non la riportano. E alimentano il fatto che io nomini i miei parenti, che sono un abitué a nominare parenti, quando invece i miei parenti li hanno nominati quelli della sinistra. Però i parenti serpenti di cui parlavano i miei parenti sono diversi, sono altri. Cioè loro vorrebbero in sostanza che loro li nominano, io poi li caccio perché sono i miei parenti. Insomma voglio chiedere che sono un po' troppo. Però questo chiedo scusa ma lo devo fare. Allora, a proposito di parenti serpenti. Anche il modello Teramo. Io vedo che c'è un attacco al modello Teramo come se il modello Teramo fosse qualcosa di serio. Cioè il modello Teramo era un modello di coesione politica che ha permesso al centro-destra di vincere le elezioni a Teramo in condotendenza rispetto a quello che accadeva a livello nazionale. Dove si perdeva dovunque, centro-destra. Ha permesso poi di avere questa chance. Era un modello di coesione politica, di lavoro dei partiti tutti in funzione di uno stesso obiettivo, riconoscendo una leadership e addirittura agevolandola. Questo era il modello Teramo, nulla di più. Poi il discorso amministrativo non c'entra niente con il modello Teramo. E' certo che il modello Teramo non può essere in regione, perché il modello Teramo è un fatto di una straordinarietà inaudita. Cioè difficilmente si ripeterà in qualche altro posto. C'è una coesione così forte, una condivisione, una stessa trasporto, lo stesso modo di interpretare. Nessuno che metteva i bastoni all'altro, all'interno di tre partiti, si lavorava tutti insieme. Non ci siamo mai divisi nemmeno all'opposizione, quando ero il coordinatore dell'opposizione, e mai in maggioranza. Siamo stati un blocco monolitico che dava sicurezza, tranquillità, che poteva fare le scelte, che non dava spazio a situazioni di conflittualità o di acerdime rivalità, o ancora di giochi di, come si dice, giochi di fazione, che passano notizie per screditare l'altro. Questo è stato il modello Teramo. E ha premiato. Adesso la classe dirigente Teramana è una classe dirigente regionale, non c'è un bel dubbio. E non è detto che quello da Ancredi e altri possa diventare di livello nazionale. Ciò detto, non c'entra niente con la regione Abruzzo. Perché la regione Abruzzo, queste condizioni che c'erano qui, non ci sono. Non per niente, voi avete visto il discorso che c'è stato con il capogruppo, con delle situazioni, per cui non è trasportabile. Allora l'attacco al modello Teramo non ha senso, perché non esiste più il modello Teramo, è finito quando noi abbiamo finito di operare a Teramo. Siamo andati in regione e adesso esiste il modello della regione. Con le conflittualità tipiche. che ci possono essere in un gioco, ma anche nello stesso partito, dove ci sono posizioni diverse, mai fondate su una visione diversa delle cose, molto raramente. fondata esclusivamente su quelle che sono l'acquisizione di spazi di potere. È una dialettica, chiamiamola, tra virgolette, un confronto, un scontro legittimo che c'è da tutte le parti, in tutti i partiti. Non c'era a Teramo, perché era un fatto eccezionale in Italia. Quindi, non mi meraviglio che ci sia qualcuno che faccia sciacallaggio. Io ho fatto un coordinamento regionale, ho detto, in questo momento bisogna serrare i ranghi, bisogna pensare solo all'essenziale, e non a tutto ciò che non è essenziale, che pure magari può essere oggetto di divisione, o di interesse localistico, campanilistico, di fazione, di gruppo, di referenti. Concentriamoci sull'essenziale. Questo è. In questo momento ci stiamo concentrando sull'essenziale. Però non escludo che ci siano quelle persone che ritengono di non avere un ruolo, di non poter fare le nomine, di non poter fare le cose, che in questo momento giuiscono in certe situazioni. Noi siamo diventati anche, siccome ho nominato una giunta dove c'era una presenza di tanti terramani, ma che non è stata una giunta dove io ho detto, basta, si fa così, c'è stata la condivisione dei due coordinatori, per una serie di circostanze. Questo ovviamente può essere un argomento che può essere usato da classi dirigenti di altri territori che non si misurano sugli aspetti qualitativi, ma si misurano, diciamo noi vorremmo avere il posto semplicemente perché siamo, ci stanno quattro terramani, noi vorremmo invece un chietino, ma guarda, poi un chietino, poi è lui. Cioè, allora, situazioni di una banalità e di una miseria anche per certi versi, che fu ripreso nel Consiglio regionale. Quando nel Consiglio regionale ho addebitato alcune cose alla politica per cercare di ricostruire, c'era questo, la casta, il fatto che uno adesso deve far politica per tutta la vita finché non muore, finché non arriva, non esiste, che devi far politica finché non muori. Il rinnovamento della classe dirigente, che è un rinnovamento spesso fittizio, frutto dell'allevamento, e già il termine allevamento, dicevo, fa capire bene che cosa significa, e mi hanno risposto, ma voi siete tutti figli, a Teramo siete tutti figli? Sì, ma noi siamo nel 99, autonomamente, loro avevano preso i voti dei padri, ma poi il modello è stato tutto diverso, non c'è stata una scuola di partito, io non ero iscritto a nessun partito, gli altri erano di partito, ma insomma relativamente. Cioè, voglio dire, ci sono persone, io ho detto, l'opposizione vuole le mie dimissioni, anzi chiede le mie dimissioni, ma non le vuole, perché poi lungo i corridoi mi dicevo, ma tu sti tutto a posto, questo è perché altrimenti, ho detto chiaramente, sono costretti ad andare a lavorare, a non fare più i consigli regionali, e molti non hanno mica il lavoro. Quindi, alcune cose vanno dette, perché poi le persone possano capire, non ammantarle di tante altre cose. Quindi, non escludo che ci siano persone del mio schieramento che pensano di lucrare visibilità, posti, peso, sulle disgrazie degli altri, ma se anche fosse così, non lo sarebbe, sulla loro capacità, sulla loro teorezza, sul loro lavoro, sulla loro qualità, e quindi sarebbe effimero. Sarebbe effimero. Io sono nell'ufficio di presidenza nazionale, e quindi, siamo 32 del partito, per cui, in questo momento, io sto lì, e sono vertice apicale del partito abruzzese, almeno a livello nazionale. C'è un ottimo rapporto con il coordinatore, con il vice coordinatore. Lavoriamo, ovviamente, ci sono anche delle, però, insomma, ma, ci sono personaggi di seconda, terza, quarta, quinta fila, che più sono di una fila arretrata, più esprimono, possono cadere in questo errore, che poi fa male a tutti, fa male a tutti. Comunque, la tua domanda non è assolutamente, diciamo così, campata per aria. Governatore, il vescovo della diocesi di Chieti e Basco, Monsignor Bruno Forte, nel corso dell'Omelia di domenica, ha detto, testuali parole, le leggo, siamo disgustati da questa politica, sta dando uno spettacolo vergognoso. E aggiungeva, nazionale e regionale. E regionale. Se la Chiesa prende una posizione, così netta e così forte. Allora, l'ho letta, oggi è stata data grande rilievo, perché è giusto che un'osservazione di questo genere, che tra l'altro proviene da un vescovo, e quindi è importante. Anche perché, per quanto mi riguarda, ho un'alta considerazione, diciamo, di quelle che sono le espressioni, non perché siano vescovi, ma perché sono persone normalmente molto preparate, culturalmente elevate, quindi, insomma, il loro giudizio per me è un'opera, un'opinione, come posso dire, un'opinione molto importante. E allora, dopo aver sentito queste cose, sono molto amareggiato. Mi deprimono anche queste dichiarazioni. Vede, quando, se la procura, gli organi inquirenti, ogni tanto fanno qualche forzatura, qualche, e non è il caso specifico, qualche spettacolarizzazione, ci sta. Se lo fa la politica, fa qualche cosa, demagogia molto forte, spinta, ci sta. se la stampa ogni tanto pensa più alle copie che vende, magari che ai fatti, ci sta pure. Ma che la Chiesa, che è molto prudente, perché usa il discernimento, si lasci andare ad un'affermazione che fa di tutt'erba un fascio, è un po' deprimente, è un po', mi sa un po' di populismo, e mi sorprende quanto più mi rendo conto, poiché la Chiesa è stata vittima anche di questa situazione. E nessuno di noi ha mai pensato che le cose che venivano attribuite a persone che girano attorno alla Chiesa, preti, vescovi, insomma, siano poi da generalizzare. Non abbiamo mai pensato che tutte quelle vicende che sono uscite attorno alla Chiesa in questo periodo, nel tridacarne mediatico, peraltro, non sappiamo nemmeno se è vera, ma nemmeno Frorte sa se è vera, se sono vere quelle cose, perché sono in fase di accertamento. Grazie.